Niente corridoi di lancio per le spiagge dell'area marina protetta. Barcaioli sul piede di guerra a Marina di Camerota. Vorremmo semplicemente lavorare in pace, tuona Felix D'Andrea, presidente della cooperativa Cilento Mare. Ogni giorno siamo costretti a rispedire a casa centinaia di turisti che vorrebbero essere accompagnati a Baienfreschi alla spiaggia del Pozzallo. Semplice il motivo, perché i corridoi di lancio e i pontili non sono stati ancora installati dall'ente parco o dal comune, spiega D'Andrea, e senza corridoio non possiamo più arrivare in spiaggia. Abbiamo anche dato la nostra disponibilità ad installare i corridoi a nostre spese, ma la risposta è stata negativa, afferma Felix. Non sappiamo più a chi rivolgerci. Abbiamo parlato inutilmente col sindaco, col parco, con professori universitari, nessuno ha mosso un dito. Eppure il rischio è di mandare in aria la stagione turistica. A cosa serve fare tanta pubblicità alle nostre spiagge se poi non sono accessibili? Si domanda Felix. Abbiamo sempre fatto questo lavoro con professionalità, ma soprattutto con grande rispetto per l'ambiente. Non va tralasciato il problema sicurezza. Senza i corridoi di lancio, molti di portisti e barcaioli, spiega Felix, arrivano ugualmente in spiaggia, rischiando seriamente di far male a qualcuno. È necessario intervenire subito, prima che accada una tragedia. Ogni anno diciamo sempre le stesse cose. Questa situazione non fa bene a nessuno. Noi non possiamo lavorare in sicurezza e i turisti vanno via insoddisfatti, spiega il titolare di un noleggio barche.